Ciao, io sono Luca di Appracciala.it e in questo video parleremo di cosa fare quando una ragazza visualizza e non risponde ai messaggi. Per iniziare ti ricordo che il martedì 17 maggio 2022, ore 21, otterrò una lezione gratuita online, in diretta, su come conoscere ragazze su Instagram e come reali fino in fondo, in camera da letto, anche se non sei bello e anche se non hai macchinone. Partecipazione speciale di Mr. Y, esperto di rimorchio su Instagram e per registrati gratuitamente ti basta cliccare sul primo link in descrizione. Quindi, cosa fare quando una ragazza visualizza e non risponde ai messaggi? Di sicuro, continuare a mandarle un sacco di messaggi, tartassarla, di ehi, perché non rispondi o robe di questo tipo, non è la soluzione. Penso sia un minimo intuibile, però in realtà no, perché poi la maggior parte di uomini fanno cose di questo tipo. Quindi, calma, respira, aspetta un attimo, aspetta qualche ora, aspetta magari anche un giorno. Alcune volte, semplicemente, ci sono ragazze che per categoria, loro visualizzano i messaggi e magari rispondono in un altro momento. Ok? Non è che devi arrabbiarti, quindi bisogna capire anche un attimo quale è lo stile di scrittura della ragazza. Magari tu lo interpreti come una mancanza di rispetto nei miei confronti o robe di questo tipo. e magari lei lo fa semplicemente così, di suo. Ok? Quindi magari tu sei uno molto ordinato che non visualizza il messaggio se non rispondi anche, e però magari non è che tutte le ragazze sono così, quindi ti potrebbe rispondere anche diverse ore dopo, magari un giorno dopo, anche se in realtà nella maggior parte dei casi, quando gli uomini si ritrovano con questo tipo di problema, con le ragazze che non rispondono perché hanno commesso errori nell'interazione, che sia dal vivo, che sia in chat, poi in questo caso qua stiamo parlando di quando le ragazze non ti rispondono più quando riscrivi su Instagram, però in realtà lo stesso concetto si applica anche se approcci ragazze, per esempio online, sulle app di incontri, come per esempio su Tinder, di solito l'errore è stato fatto nella parte di chat, quindi che hai scritto messaggi troppo banali, la ragazza non l'hai interessata abbastanza perché hai scritto messaggi che non hanno creato interesse, hai fatto cose troppo, diciamo, da maggior parte dei uomini, hai fatto domande banali, di dove sei, cosa fai nella vita, o robe di questo tipo non ti sei distinto abbastanza, quindi bisogna anche capire un attimo, prima di ritornare all'attacco anche formarsi un attimo e capire anche che cosa hai fatto come errore, perché se incolpi la ragazza e lei è una stronza che non risponde ai messaggi, sei già automaticamente in una modalità in cui per te è impossibile migliorare e quindi continuerai poi a riscontrare lo stesso problema neanche con altre ragazze. Nel momento in cui invece ti prendi tu la responsabilità di quello è successo, sei in una modalità in cui ti chiedi ok, che cos'è che ho sbagliato, di conseguenza cosa posso fare meglio in modo che cerchi di non ripetere lo stesso errore con la ragazza successiva e vedrai che la cosa migliora con la ragazza successiva, però se incolpi la ragazza, non c'è modo che tu possa migliorare e continuerai a riscontrare sempre lo stesso errore, quindi se tu la tartassi di messaggi appari soltanto come bisognoso, non stai facendo una cosa positiva, ti stai affossando ancora di più, tutto quello che viene percepito come bisognoso respinge quello che c'è d'altra parte, quindi è un concetto universale, non si applica solo con le ragazze, però se sei bisognoso con una ragazza, la ragazza la respinge, non è che la respingi te, è la ragazza che respinge te, ok, ma stessa cosa anche per la prospettiva maschia, se un uomo ha esperienze, se una ragazza con me si comporta in maniera troppo bisognosa, se magari ha un appuntamento, ci arrivo al bacio, lei subito si attacca un sacco, mi inizia a fare subito discorsi di relazione, calma, ci siamo soltanto appena baciati, che cosa mi fa vedere? Mi fa vedere che non ha esperienza, oppure magari anche esperienza, però ha molto bisogno di essere in una relazione, e per me che ho esperienza non è attraente questa cosa, mi fa dire, minchia, questa cosa no, no, ok, quindi è stessa cosa dalla prospettiva femminile, ok, quindi tartassare i messaggi ti fa parire soltanto come bisognoso, non riscriverle roba banale, quindi riscrivendole, ehi, perché non rispondi o robe di questo tipo, cioè il perché non rispondi ti affossa soltanto di più, quindi una cosa che sicuramente non devi fare, soprattutto tra poco parliamo anche di quello che c'è da fare, però di sicuro non farle notare che non ti sta più rispondendo, ok, quindi non dirle, ho notato che non mi stai più rispondendo, e magari tu magari scrivi un messaggio che è anche originale per aprire la conversazione, ma magari lo farcisci anche con il ah, ho notato che non mi stai più rispondendo, oppure robe di questo tipo, magari lei anche ti risponde, magari ti risponde dopo diverse ore che aveva visualizzato, però tu come primo messaggio dopo che lei ti risponde le dici, ah, è dove eri finito, ho visto che non mi stavi più rispondendo, robe di questo tipo, adesso non so, si può schierare in diverse salse questa cosa, e ti affossi soltanto di più, quindi le fai vedere che tu eri lì ad aspettarla, le fai vedere soltanto bisogno, che non c'è un cazzo da fare nella tua vita, che non hai altre ragazze, che sei lì ad aspettare lei, quindi lei percepisce soltanto bisogno se le fai notare che non ti stava più rispondendo, e altrettanto le fai anche tornare alla mente il motivo per cui non ti stava rispondendo, perché magari appunto avevo scritto un messaggio che era troppo banale, non era interessante, quindi lei ha smesso di risponderti, però a un certo punto ti ha risposto lo stesso, però se tu le fai notare che non ti stava più rispondendo, le fai tornare alla mente il motivo negativo per cui non ti stava più rispondendo, e quindi non stai facendo una cosa che gioca a tuo favore, ti stai, diciamo, non so come dire, stai facendo i buchi nella tua barca, ti stai autofondando tu da solo, ok? Quindi quello che c'è da fare quando la ragazza non ti stava più rispondendo, è scrivere un qualcosa di apparentemente casuale che faccia sorridere, barra ridere, la ragazza che magari faccia anche leva su uno suo interesse, una sua passione, quindi questa qua è la formula. Quindi facciamo degli esempi, per esempio, non so, ti cito esempi di situazioni con studenti in corsi a vivo, con queste situazioni di studenti in consulenza, ti cito giusto un paio, che sono quelli che mi vengono sempre in mente quando si parla di questo argomento, è un studente che era in ballo con una ragazza, forse ce l'ha già fatto anche qualche appuntamento, se non ricordo male, e questa ragazza era appassionata di mare, quindi gli ho detto, ok, che cosa sai di questa ragazza, perché se tu non sei un cazzo di niente di questa ragazza, e se è il primo messaggio che tu hai scritto, e lei non ti ha risposto, lascia stare, hai scritto un messaggio che fa cagare, passa alla prossima ragazza, capisci l'errore che hai fatto, però questa cosa la puoi fare se effettivamente c'è una chat avviata che sta andando avanti, allora da lì ha senso magari provare a recuperare, ok, però se non sai un cazzo di niente della ragazza, che cosa le scrivi, ok, quindi sapere un minimo di informazioni della ragazza, questa ragazza era molto appassionata di mare, quindi ho detto allo studente, ok, vai a pescare una foto da Google, o quello che è, dove si vede un mare molto cristallino, quindi, e manda questa foto alla ragazza con questa didascalia, adesso non è che mi ricordo nel dettaglio, però provo a andare a memoria, io ho detto iscrivere, mi è passata davanti questa foto su Facebook, questa pubblicità su Facebook, su Instagram, e mi sei tornata in mente te, quindi per farlo apparire in maniera casuale, quindi non che la vai a ricontattare così a caso, ma lo fai, il ricontatto è scaturito da un qualcosa che ti è passato avanti, quindi in questo modo lo fai apparire come casuale, anche se è premeditata, come cosa, quindi mi è passata davanti questa pubblicità qua su Facebook, su Instagram, mi sei tornata in mente te, per caso ci sei mai stata anche tu al mare ai Caraibi, magari non so, le mandi una foto del mare dei Caraibi, ok, questa cosa ha senso soltanto se la ragazza è appassionata di mare, molto appassionata di mare, ok, copiare e incollare questo messaggio a caso, su una ragazza a caso di cui non sai niente, non ha alcun senso, ok, quindi in questo caso non è che non vai a far leva su un qualcosa della faccia ridere, barra sorridere, però vai a far leva su un suo interesse, su un suo passione, in più metterci anche un'immagine o qualcosa di visivo, è una cosa che può aumentare le possibilità di risposta. Poi il secondo esempio, studente di un corso a vivo nel 2020, che ha preso un numero di telefono da una ragazza conosciuta dal vivo, e questa ragazza qua, lui ci sta chattando correttamente con il mio supporto, e la ragazza era pronta per essere invitata per l'appuntento, però giusto un attimo, che non stavo più dando indicazioni allo studente, che stava chattando per conto suo, e questa ragazza qua, diciamo, ha smesso di rispondere per il fatto che lei era pronta per uscire, però lo studente ha iniziato a perdere tempo, schiaccazzate, e quando la ragazza è pronta per uscire, tu perdi tempo, le stai dimostrando che non capisci la situazione, quindi mancanza di intelligenza sociale, e siccome l'intelligenza sociale crea attrazione alla ragazza, e dimostrarle l'opposto fa perdere interesse alla ragazza, quindi però non è questo il discorso. Quindi la ragazza ha smesso di rispondere, e ci siamo dovuti inventare il messaggio di riapertura, quindi sapevamo che questa ragazza le piaceva fare escursioni in bici in mezzo alla natura, e quindi ho detto allo studente, cerca una foto su Google o su Instagram di qualcuno che fa una corbazia in bici in mezzo alla natura, e manda la foto alla ragazza con questa didascalia, quindi mi è passata davanti questa foto su Instagram, e mi è tornata in mente te, sei anche tu in grado di fare certe corbazie, come magari l'occhio di una alla fine, e la ragazza è tornata a rispondere anche molto positivamente a questo messaggio, e da lì tutta quanta la chat fino all'appuntamento, ok? Quindi in questo caso era un messaggio che andava a far leva sempre su un suo interesse, su un suo passione, c'era anche il ricontatto che appariva con qualcosa di casuale, e mi è passata davanti questa foto e mi sei tornata in mente te, ok? Quindi in questo modo appare come casuale il ricontatto, e era anche tra virgolette una battuta per il fatto che sapeva che la ragazza non sapeva fare le acrobazie in bici, quindi era anche tra virgolette una battuta, quindi in questo modo la ragazza ha ripreso a rispondere, però bisognerebbe anche imparare magari a chattare correttamente in modo da non trovarsi mai in una situazione in cui ti devi inventare il messaggio di riapertura. Ricordati sempre che il furbo è colui che sa uscire dalle situazioni in cui il saggio non ci si metterebbe. Cosa vuol dire sta roba? Il furbo scrive i messaggi, poi dopo sbaglia, però si sa inventare il messaggio di riapertura per uscire da questa situazione. Però il saggio non ci si mette neanche in questa situazione, il saggio scrive correttamente i messaggi fin dall'inizio, e cioè io non mi trovo praticamente mai a dover pensare al messaggio di riapertura, perché scrivo messaggi correttamente in modo che non devo pensare a un messaggio di riapertura. Quindi consiglio caldamente a tutti quanti di diventare i saggi e di non trovarsi a inventarsi i messaggi di riapertura. Se vuoi saperne di più su come scrivere i messaggi, martedì 17 maggio 2022, ore 21, te avrò una lezione gratuita online, in diretta, su come conoscere ragazze direttamente su Instagram, e come reale fino in fondo, in camera da letto, anche se non sei bello e anche se non hai il macchinone. Partecipazione speciale di Mr. Y, esperto di rimorchio su Instagram, e per registrarti grati se ti basta cliccare sul primo link in descrizione. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.